La buona notizia era nell'area, la conferma è giunta nella serata di ieri. Tutti i medici, infermieri e ausiliari a contatto con la dottoressa della pediatria di Battipaglia risultata positiva nei giorni scorsi, sono per fortuna risultati negativi. Infatti, i secondi tamponi hanno fatto tirare un sospiro di sollievo con l'esilo della negatività. Era aperta pertanto da oggi il reparto di pediatria del Santa Maria della Speranza di Battipaglia. L'importante struttura sanitaria era stata temporaneamente chiusa dal direttore sanitario perché era risultato positivo al coronavirus una pediatra. Da oggi tutto è tornato alla normalità con la riapertura del prestigioso reparto dell'ospedale Battipagliese.